Io sono uno di quelli che mi conoscete, crede sempre alla buona fede, crede sempre tendenzialmente che quando si verifica qualcosa di assurdo sia frutto di scarso talento, scarse capacità e non di qualcos'altro e voglio continuare a crederlo anche stasera però stasera diventa un po' più difficile attaccarsi a un principio di buona fede per quanto io voglio continuare a farlo perché questa è una partita veramente difficile da commentare rimanendo sereni e Dio solo sa quanto mi costa rimanere sereno in questo momento considerando che stavamo giocando contro la Francia in un europeo under 21 che l'Italia ha tutte le carte di regola per andarsi a giocare noi usciamo sconfitti da questa prima partita senza neanche sapere bene come sia possibile perché la Francia gioca bene, c'è un sacco di giocatori già inseriti nel calcio che conta questa cosa che purtroppo non vale per buona parte dei nostri che salvo rari casi non sono nelle prime squadre di alcuna formazione quindi la Francia per carità di Dio nessuno vuole sviluppare il valore tecnico della rosa però questa sconfitta non sta all'inciano in terra per infinite cose che potremmo star qui a discutere ma io voglio soffermarmi su una in particolare una sola la mancanza di tecnologia io vorrei capire perché evidentemente sono io quindi vorrei che qualcuno mi aiutasse a capire come è possibile che in un europeo under 21 non la coppa dei piccoli simpatici l'europeo under 21 cioè competizione internazionale di prestigio di prestigio non è una coppetta dei quartieri è l'europeo under 21 com'è possibile che questa competizione non venga equiparata alle altre del calcio contemporaneo se io devo giocare una coppa e una competizione col VAR e la goal line una solo con la goal line ma senza il VAR una senza la goal line e senza il VAR che cazzo non la si stava a guardare cioè a me sfugge onestamente e lo dico con grandissima franchezza la coerenza di questo sport ormai uno sport che ormai sta perdendo di credibilità ogni giorno che passa ogni giorno che passa che sta perdendo di logica che sta perdendo di di intensità che sta perdendo di valori che potremmo stare qui 12 ore e non vi annoierò oltre ma io voglio veramente capire come sia possibile neanche neanche adeguare una competizione così prestigiosa alle regole più basilari dell'attuale livello tecnologico avrei potuto accettare l'assenza del VAR non sono predinunciando la stanzetta in cui Anna fa va benissimo va bene ma la goal line so due sensori cioè quello vuol dire non avere il minimo interesse verso il principio della trasparenza cioè se non lo mettiamo in un europeo under 21 allora non lo mettiamo da nessuna parte torniamo al calcio della volta lo facciamo prima se sta in tutte le altre competizioni lo pretendo all'under 21 perché poi ripeto pensare male si fa peccato com'è il famoso detto però a volte ci si piglia e io spero che non ci si pigli stasera ma la partita è stata veramente stata veramente inspiegabile in certi frangenti veramente inspiegabile ed è un peccato perché questi ragazzi non si meritavano la nostra sconfitta stasera mai come in questo in questi 90 minuti perché queste poi sono sconfitte che fanno male perché non è la sconfitta per come posso dire per un una propria una propria incapacità per una propria cioè una sconfitta sul campo una sconfitta che va oltre il campo quella di stasera perché quello quello che era il 2 a 2 evidente agli occhi di chiunque volesse guardare in quel momento è inconcepibile che non venga dato una partita e ripeto io mi sto mi sto volutamente attaccando all'ultimo episodio perché sennò facciamo notte ma quell'ultimo episodio è lo specchio dell'intera partita io onestamente trovo che seguire il calcio così sia sia veramente complicato e da vecchio appassionato da vecchio romantico di questo sport devo dire che tutte queste situazioni sono puntualmente un colpo al cuore un chiodo ulteriore su quella bara che prima o poi mi porterà a dire io mi sono rotto di vedere sto sport torno a qualcosa di più di più di più di più di più credo che questo di più racchiuda tutto ragazzi niente vi saluto prima di trascendere ciao ciao Grazie a tutti.